Il risultato principale che si è ottenuto con il vertice romano sulla strada statale 100, che ora anche a livello ministeriale nessuno potrà dire, non lo sapevamo. L'Italia, si sa, è piena di problematiche infrastrutturali che vengono anche qui da decenni di sottovalutazioni e di inazione. Un esempio su tutti l'emergenza geologica, le frane continue, le inondazioni, l'assenza di una cura efficace dei territori, aggravata anche dai cambiamenti climatici. Poi, tornando a noi, ci sono le ingiustizie infrastrutturali, le strade che colpiscono nella nostra regione, soprattutto i territori a sud di Bari e nel Salento. Nessuno, per esempio, ci ha dato una risposta sul motivo che ha fatto trovare velocemente i fondi per completare a quattro corsie il tratto dell'accento tra Bari e Gioia del Colle. E per il resto, da Gioia del Colle a Taranto, niente. Il problema si è sollevato con la serie infinita di incidenti stradali, morti e per altre conseguenze invalidanti, e per l'azione continua del Comitato Strade Sicure, culminata nella manifestazione di protesta del 27 aprile scorso e che Telerama ha raccontato in diretta perché è una delle battaglie di sempre di questa emittente. Il vertice romano, con il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e con i dirigenti regionali e nazionali di ANAS e per il Comitato Vanni Caragnano, mette i decisori governativi al cospetto di scelte che non possono che andare nella direzione dell'avvio dei lavori per il tratto Gioia del Colle e Bivio di San Basilio e di progettazione del tratto tra San Basilio e lo svincolo di Palagiano. In mezzo ci sono i lavori di cantierizzazione dei primi interventi di manutenzione per evitare eccessi di velocità e sorpassi azzardati. Interventi che ci ricorda nell'ultima audizione svoltasi nella quinta commissione consigliare regionale, il consigliere Antonio Paolo Scalera della Puglia domani aveva chiesto anche con forza ai dirigenti di ANAS. Scalera prende atto che l'iter autorizzativo al Ministero dell'Ambiente sulla tratta appunto Gioia del Colle e San Basilio ha avuto una forte accelerata. Dunque un lavoro sinergico, si spera alquanto veloce. La campagna elettorale finirà molto presto e allora bisognerà andare a vedere se le cose promesse diventeranno fatti.